I grandi nomi della nautica prodano a Viereggio, capitale internazionale della cantieristica di Alta Gamma, per tre giorni, dal 9 al 12 maggio, con la terza edizione del Versilia Yachting Rendezvous, sostenuto anche con un finanziamento di 400.000 euro dalla regione toscana. Inaugurazione in Darsena su uno specchio d'acqua di quasi 50.000 metri quadrati, dove i produttori di yacht e mega yacht hanno esposto il meglio della loro produzione. La regione toscana assumerà un impegno triennale per sostenere questa manifestazione, che fino al 2022 potrà contare sul sostegno regionale. Ad annunciarlo il presidente della regione toscana è intervenuto durante l'inaugurazione. Il Versilia Yachting Rendezvous rappresenta una vetrina importante per il manifatturiero costiero, forte di 4.000 imprese che producono 2 miliardi di fatturato. Per questo il presidente della regione ha detto che sarebbe opportuno arrivare a firmare con il governo un protocollo d'intesa per sostenere in modo adeguato la manifestazione. Il presidente ha anche aggiunto che è sua intenzione finanziare con 5 milioni di euro un sabbio d'otto per evitare gli insabbiamenti del porto di Viareggio.